Raga buonasera, io ho provato a fare un video sul nodo spirale, sullo scubidò spirale ma mi è venuto di 18 minuti siccome qua tutti mettono video di 2-3 minuti massimo, non vi voglio annoiare con troppi dettagli comunque ne parlerò in più video, non in uno solo a questo punto andiamo a realizzare questo genere di scubidò come potete vedere, a differenza di questo, la treccia scende in maniera meno veloce, passatevi il termine nel senso che, seguite il bianco, il bianco forse in tutta la lunghezza dello scubidò non arriva neanche a fare un giro in questo caso invece, come potete vedere il blu, partendo da qua 1, 2, 3, 4, 9, con 10 passaggi ha fatto già un giro la differenza sta nella posizione delle cime con le cime messe in questo modo, blu e blu, bianco e bianco, andiamo ad ottenere questo cosa si fa? andiamo a posizionare la cime blu a destra di quella bianca, quindi a destra di quella opposta andiamo a fare la stessa cosa con quella bianca la mettiamo a destra di quella blu e la cime blu la facciamo passare dentro la cime bianca in questo modo, come potete vedere qui è bloccata e la cime bianca dentro quella blu perfetto quello che dovrete avere una volta che andate a stringere è più o meno questa questa posizione qua andando a stringere si formerà un quadrato che voi potete vedere vedete qui? c'è un quadrato voi con i pollici aiutatevi in questo modo così non ci metterete molto a fare uno scopidoo perché se vi mettete a tirare uno, due, tre, quattro vi perdete dalla casa aiutatevi con i pollici che stringete bene e il movimento imita tutti quei quattro passaggi lenti continuiamo destra, destra non vi preoccupate se vedete che il bianco ora entra nel bianco il blu entra nel blu ma come? prima entrava nel bianco il blu e il blu entrava nel bianco no non è un problema e quando si vanno a intrecciare in questo modo i scopidoo si alternano infatti come potete vedere adesso mi ritrovo il bianco che va a destra di quello blu e il blu che va a destra di quello bianco e il bianco che entra nel blu come prima ok? non state sbagliando niente semplicemente è il passaggio da seguire andiamo a stringere come prima ora questi sono i passaggi fino alla fine che andrete a seguire una volta arrivati alla fine prendete magari un accendino e andate a sciogliere la parte finale in questo modo non ne sciogliate tanta va bene una cosa solo solamente una come realizzare vabbè come realizzare questo anello per iniziare lo scopidoo fate un nodo semplice ok andate a mettere la cima che volete come manico come occhio andate a stringere e iniziate da qui il vostro scopidoo il primo passaggio realizzatelo lentamente perché vedrete che andando a chiudere in questo modo se tirate troppo la cima verde tende a scorrere quindi al primo siate abbastanza attenti al secondo iniziate a stringere così assicurate sia la prima che poi quelli seguenti grazie per aver seguito il video ci vediamo al prossimo ciao 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 ciao